Ehi, benvenuto nel mio nuovo video. Ti consiglio di passare nella descrizione dove trovi tutti i miei social, soprattutto passa dal sito Viola dove streamo tutti i giorni, Instagram per rimanere aggiornato su video e live e Discord per chattare con me ogni tanto. Inoltre ti consiglio di iscriverti al canale dato che ho scoperto attraverso YouTube che molti di voi non sono iscritti. Detto questo, buona visione! E ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video di Among Us. Oggi siamo qua per andare a vedere, come avete letto nel titolo, alcuni sneak peek che sono stati fatti con gli ultimi teaser postati su Twitter dalla solita pagina di Among Us. E come sapete lo sto portando molto qua sul canale perché è un gioco che vi sta piacendo veramente veramente tanto e quindi sono contento di portarvelo. Restate però sintonizzati perché adesso porterò anche altri contenuti che secondo me vi piaceranno molto. Soprattutto riguardo a Boom Beach Frontlines, dato che come sapete dal 22 gennaio avrete la possibilità di rigiocarci. Quindi sicuramente vi porterò qualche contenuto a riguardo. Oggi però andiamo a parlare di un argomento interessante, infatti andiamo a trattare del nuovo aggiornamento. Andiamo a farci una partita così, tanto per passare il tempo al volo e poi andiamo a trattare tutti gli argomenti uno dopo l'altro. Prima però che inizi la vera propria partita vi consiglio di andare a guardare i link qua sotto in descrizione perché nel caso volesse supportarmi con una semplice donazione o un abbonamento che per me è molto importante per migliorare la postazione e tutto. Dato che la mia postazione attualmente è composta da uno solo strumento che è il mio amato iPad che ormai come sapete utilizzo sempre. E niente, questa è la situazione. Come sapete, ecco, stavo giusto per dire. Stavo giusto per dire. Come sapete io sono molto fortunato con le partite di Among Us dato che crasho sempre, due secondi dopo crash. Comunque, detto questo, come sapete però arriverà la nuova mappa che è Airship. Una nuova mappa che sarà appunto in stile Harry de Stickmin, questo famoso gioco che vi ho detto è stato pubblicato recentemente dalla casa Innersot, con lei che ha prodotto il gioco di Among Us e questa nuova mappa contiene alcuni sneak peek tra cui c'è una piattaforma volante con la quale avremo la possibilità di spostarci che sarà un ottimo luogo per killare. Andremo poi a vedere bene il video a riguardo di questa macchina che ci fa teletrasportare. Ed eccoci qua nella nostra pagina di Among Us. Ormai la conoscete oggi che è un bellissimo, una bellissima domenica sera, hanno deciso di mettere questo nuovo Among Us Weekend I Sleep. Molto molto interessante devo dire. Eccola qua, si è caricata finalmente, magicamente. Gli ultimi post sono questo skin cinese. A little merch update, click through the thread to read grab some limited items good. Quindi è stato postato questo merchandise ufficiale di Among Us, che come sapete è molto frequente. E in questo caso hanno messo questo homo marrone con questa scritta, questo post-it Doom, molto molto carino e coccoloso, della quale avrete la possibilità di comprare questa felpona. Molto molto bella, che rappresenta la nuova mappa Airship, cioè l'astronave classica. Questo nuovo personaggio che, come sapete, avremo la possibilità nel prossimo aggiornamento di sparare con lanciafiamme. E qua avremo questo ghiaccio, quindi fuoco ghiaccio, il contrasto ci può stare. E qua queste skin dei personaggi in stile pacchi regalo, molto molto carina. Sicuramente molto molto bella. Inoltre sopra ci sono tutti i simboli. Lì c'è il simbolo della chiusura delle porte, simbolo dell'elettricity, simbolo dell'ossigeno, simbolo di communication e simbolo del reattore. Quindi tutte le sabotazioni, i sabotaggi che si possono fare, ecco. Dall'altra parte questa è l'azienda che ha prodotto le maglie di Among Us, quelle ufficiali. Si chiama Dual Wheeled Studio. Se volete comprare qualsiasi tipo di cosa, basta andare qua sullo store di InnerSlot e potete fare gli acquisti che volete. Detto questo, la cosa fondamentale è questa piattaforma qua, che vi ho fatto già vedere nello scorso video, ma oggi andremo ad approfondire meglio perché è un argomento interessante dal mio punto di vista, perché rappresenta una vera e propria innovazione. Infatti, come vedete, la mappa si presenta con questo nome, Gap Room, con la quale noi avremo la possibilità di accedere attraverso o una chiusura delle porte, quindi c'è un'apertura delle porte, scusatemi, io non so se in questa mappa ci sarà la possibilità di aprire le porte, ma o attraverso una venta, nel caso fossimo impostori, o attraverso questa scala che ormai penso tutti conosciate. E niente, questo è il tutto, cerco di mettere in pausa in questo esatto momento per spiegarvi meglio la situazione. A sinistra vediamo la porta, molto molto carina, troviamo le scale, troviamo questo bottone vicino alle scale, che sicuramente servirà per una delle missioni quando verranno sabotate, perché come abbiamo visto in questo esatto video, guardate un attimo qua, quando c'è il sabotaggio c'è un doppio sabotaggio con questi pulsantini, quindi ragazzi ve lo dico, tenetevi pronti. Una volta avvicinati a questa piattaforma dove c'è questa piattaforma che si sposta, partirà in modo automatico, appena noi siamo sopra, partirà in modo automatico e si dirigerà verso esattamente la parte opposta, in modo tale che una volta arrivati dalla parte opposta avremo la possibilità di scendere e quindi di rifare il tutto. Una cosa che però voglio vedere, è come immaginavo, una volta che ci avviciniamo avremo la possibilità di schiacciare il tasto Use, quello in basso a destra, con lo quale di solito si fanno le tasche o comunque si interagisce col gioco, avremo la possibilità attraverso il tasto Use di accedere sopra, al di sopra di questa piattaforma, quindi di attivarla e spostarci in avanti. Quindi il vero funzionamento sarà attraverso questo tasto Use, è sicuramente una cosa molto interessante. Andando avanti però col video, una volta che schiacciamo il tasto Use, una volta che siamo sopra, non avremo più la possibilità di schiacciarlo, ma soltanto quando ci avvicineremo alla parte opposta avremo poi la possibilità di rischiacciarlo. Detto questo, qua vediamo la parte esattamente opposta del tutto, infatti la mattoncina sta dall'altra parte e quindi avremo la possibilità di andare da una parte all'altra soltanto se andiamo dalla parte opposta. Quindi questa è una cosa che dovete considerare, che da questa parte, in questa esatta inquadratura, non potete prendere questa piattaforma volante, ma soltanto dalla parte opposta. Quindi ricordatevi questa cosa che secondo me è molto molto interessante. Infatti vedete, va da una parte all'altra, ma se io arrivo da questa parte non mi fa andare. Una cosa però interessante anche qui è la presenza dell'illuminatore della scala e anche dell'illuminatore del tasto Use, infatti come funziona per i carretti che si trasportano per la scala avremo la possibilità di schiacciare il tasto Use per scendere sotto. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto, se fosse così, big pollicione in su come al solito. Noi ci vediamo domani alle 14 qua sempre sul canale. Ciao ragazzuoli! Ciao ragazzuoli!